Bene salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video. Allora, Tom Lee, 25.000 dollari è il risultato a cui può ancora arrivare, il prezzo a cui può ancora arrivare Bitcoin. Lo ha ridetto pochi giorni fa alla CNBC, credo a Fast Money, dove ormai è veramente ospite, invitato quasi quasi quotidianamente, e continua a sostenere la sua tesi dei 25k, 25.000 dollari come prezzo di Bitcoin a fine 2018. Allora, ricordiamoci, come al solito lo ricorderete bene, Bitcoin ha toccato qua i 20.000 intorno a inizio 2018, in realtà a fine 2018 e poi ha cominciato a scendere. E tutti quanti sappiamo che cosa è successo dopo, vi ricordate, insomma, senza tornare e mettere il coltello nella ferita. E allora mi son detto, va bene, vediamo un secondo, che cosa deve fare Bitcoin per tornare ai 20.000, ai suoi massimi, non solo per superarli. Allora, innanzitutto dal punto di vista della, ragazzi, della percentuale deve fare quasi un per 4, perché per arrivare a 25.000, vi dico esattamente, deve fare, no, deve fare un per 3, deve fare il 287%. Sta a 6.700, deve più che triplicare il suo prezzo, ovviamente. Quindi 287%, questo è il primo dato. Lo può fare Bitcoin? Sì, Bitcoin ci ha dimostrato che nel passato lo ha fatto questo incremento, del resto mancano ancora 6 mesi, 5 mesi alla fine dell'anno. Però non dimentichiamoci una cosa, che luglio-agosto sono due mesi in cui i grandi investitori di solito sono fuori dai mercati. Ragazzi, sono due mesi in cui c'è grande manipolazione, quindi almeno ad agosto aspettatevi una grande manipolazione del mercato. Come al solito non sono consigli finanziari, sono la mia opinione personale data dall'esperienza. Quindi, tolto luglio-agosto, abbiamo settembre, ottobre, novembre, dicembre, abbiamo 4 mesi reali in cui potrà avvenire questo grande trend rialzista che vedrà, secondo Tom Lee, rompere i massimi. Bene, come può avvenire questa cavalcata a rialzo? Allora, mi sono voluto immaginare, sto facendo con voi un, definiamolo, un gioco, però andiamo a metterci un po' di resistenze per capire quali saranno tutti quanti i muri che Bitcoin incontrerà in questa sua cavalcata a rialzo. Perché mi aspetto che quelli saranno, eccolo qui, saranno momenti in cui il prezzo risentirà delle resistenze, no? Qui mettiamoci, mettiamocene una qui al massimo, allora, una la voglio mettere qui, una la voglio mettere sui massimi, vediamo se qui c'è qualcos'altro, forse qui, sì, assolutamente qui. Ok, eccoci qui ragazzi, ci siamo disegnati tutte quelle che sono nella cavalcata ai 25.000 dollari di Bitcoin, sono le resistenze che può incontrare il prezzo. La prima è questa dei 7.500 dollari, e Bitcoin ci ha fatto vedere che ormai è tanto che sta insistendo all'interno di questo canale, vedete qua il prezzo come praticamente sente queste strutture qua. Quindi, innanzitutto dobbiamo vedere Bitcoin rompere questi primi tre valori, uno a 7.500 e un altro a 9.500, tra i 9.500 e i 10.000. Poi ce n'è un'altra a 12.000, dopo c'è questa struttura qui, sui 12.000 che abbiamo visto, qui si è creato questo doppio massimo e poi il prezzo è sceso. Bene, quindi la terza resistenza che incontrerai è a 12.000, la quarta è a 13.000, e poi c'è quest'area vuota dove il prezzo effettivamente se dovesse rompere qui sopra in maniera forte, quando dico in maniera forte ragazzi intendo dire accompagnato dai volumi, allora può arrivare a 16.000, se rompi 16.000 può puntare ai massimi e poi continuare. Bene, allora sappiamo anche ormai che il prezzo non è che si muove così, no? Non sarà questo l'andamento del prezzo, quindi che cosa mi aspetto possa succedere con il prezzo? Che possa arrivare su questi valori, sentire un po' la resistenza di questa struttura, puoi riuscire a romperla, andare sopra. Questo ragazzi vi sto disegnando quello che può essere un andamento del prezzo per vedere Bitcoin arrivare lì in fondo, lì giù. Allora andiamo a vedere, spostiamoci un attimo, eccolo qui. e quindi vedete che il prezzo è fatto di impulsi e ritracciamenti, impulsi e ritracciamenti, poi questo è quello che potrebbe fare, e per poi arrivare, qui stiamo solo sui 20.000, pensate, poi deve arrivare qui sopra addirittura sui 25.000. Ora, la domanda è, riuscirà Bitcoin ad avere questo andamento in 4 mesi e a farci quasi un più 300% in 4 mesi? La risposta come al solito è qui ragazzi, è in questo grafico qui in basso, è il grafico del supply demand, della richiesta offerta. Sarà quel grafico che ci dirà se Bitcoin sarà in grado di fare questa cavalcata. e dobbiamo necessariamente deventrare, come dico sempre, nuova liquidità. La battaglia del demand dovrà vincere su quella del supply, quindi la richiesta di avere Bitcoin dovrà essere più alta del supply, perché questo è l'unico modo che abbiamo per vedere Bitcoin arrivare a quei valori. Non ci sarà altro motivo e abbiamo solo 4 mesi per vedere questa battaglia vinta dai demand. Quindi possiamo stare a guardare, quello che oggi stiamo vedendo è che ci sono fasi di consolidamento. Ragazzi, che cosa pensate siano queste fasi di consolidamento qui? Queste sono fasi in cui il supply è uguale al demand, ok? Uguale, non perfettamente uguale, ma quando c'è consolidamento, queste sono le equazioni, sono simili, si bilanciano. Qui chi è che vince? Chi sta vincendo in questo impulso ribassista? Il supply. Qui c'è il supply, nei volumi sta vincendo chi vende. Qui ancora, supply, adesso dobbiamo vedere se i supplier saranno più debole dei demand. Chi vuole acquistare, chi vuole entrare sul mercato dovrà essere più forte di chi vuole vendere, devono esserci più offerte. Staremo a vedere ragazzi, ho voluto fare questo esercizio con voi. Noi ci vediamo prestissimo, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi un like, mettetemi un commento, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!